Buongiorno ragazzi, questa nuova settimana è iniziata con CiproTV, oggi ci troviamo a CrossFit Perugia. Inizieremo con 5 minuti di corsa come generic warm-up, seguito poi da uno specific warm-up in cui avremo 10 squat, 15 lunges e 5 push-up and release. Il lavoro che ci sarà prima del workout di oggi è un lavoro di midline conditioning, quindi lavoreremo principalmente il core. Ci avremo 3 round not for time, quindi non dovrete pensare al tempo ma dovrete pensare solo alla forma dei vostri movimenti. Avremo 15 reverse snow angels, 15 strictos to bar, 15 hip extension al GHD e 15 flatter kicks. Tutto questo vi ricordo che va fatto senza pensare al tempo ma ragionando soltanto sulla forma del movimento. Il workout di oggi è un 4 round for time in cui dovremo fare 21 wall ball, 18 calorie al vogatore, 15 box jump e 12 dumbbell snatch. Anche qui sia per i wall ball che per i dumbbell snatch avremo le 3 categorie, advanced, intermediate e beginners, che poi troverete qui sul grafico. Quindi buon divertimento e buon workout. Grazie. Grazie.